esci doni, esci doni occhio esci occhio eh io qui, io qui Paolo, Paolo no, no andiamo qui vicino eh 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 attaccalo attaccalo, cigno, cigno tocca la, tocca la eh oh 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 Mauro vai 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 metti sulla vai 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 Marco! Vai! Oh no! Vai Marco! Vai! Tira! No! Ma come? Ma come si fa? No! Sì!